Perchè nascono, direi, proprio non per essere usati come strumenti, ma per altri scopi. Questo qua serve per fare tubazioni, no? Ecco, vienesce per i fili, bravo, o le tubazioni. Noi lo usiamo però come strumento musicale. C'è uno strumento che è del Sud America che appunto serve per creare questo effetto. Quindi suonano due versi, lo strumento musicale che usiamo un tubo. Sentite? Si può creare. Adesso Stefano suona questi qua, ne sono due dentro. Uno più grande, sorpresa. E hanno suoni diversi. Avete sentito? Se li mettono vicino a questo. E possono creare proprio queste più melodie. Perchè si doveva finire, diciamo, la conserva, il pomodoro, che è usata sulla finestra. Ovviamente, veniamo a fare le batte prima che utilizzassero. E abbiamo provato nei suoni, diciamo, fare, diciamo. E sono stati tipologi, questi suoni qua. Provate a sentire in realtà se sono uguali o diversi suoni. Sono uguali? No, no, no. No, 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 no... Sentiate adattica questa melodia, tutti i due esercizi simili. Quindi a casa sono potete provare, ho preparato due opri, ovviamente, e prendendo, non so, un mestro con un po' di argilinio, un po' di giallo, e provate un po' a immaginarvi qualcosa del genere. Grazie a tutti.